Buongiorno, sono Alessandro Magnasco, insieme a Federica Barnabè abbiamo una realtà di studio in cui offriamo e proponiamo corsi di Okido Yoga e di Meso Shatsu a Pescara. Io sono Lorenzo Calamosca, ho una realtà di studio che riguarda lo Shatsu e lo Yoga e interessa l'area vestita. Insieme stiamo organizzando un seminario di studio teorico pratico di Okido Yoga con il maestro Yuji Yairi. Il tema dell'incontro è la ricerca di una direzione positiva nel caos sociale. Ci sembra un tema di grande attualità che possa toccare da vicino tutte quelle persone che cercano nel loro ambiente di vita un senso di armonia. Noi studiamo, pratichiamo e proponiamo Okido Yoga e Meso Shatsu nelle nostre realtà di studio e di pratica, della nostra famiglia e nell'ambiente in cui tocchiamo nel mondo sociale. La parola Yoga significa unione, nel senso di unione di mente, corpo e stato d'animo. In Occidente è stata intesa finora come soprattutto una pratica fisica e per il rilassamento. L'Okido Yoga mette al centro dell'attenzione la possibilità di applicare i principi di questo studio nella vita di tutti i giorni. Parliamo di Okido Yoga perché ci riferiamo alla ricerca del maestro Masairo Oki, il quale non voleva creare uno stile di Yoga in contrapposizione agli altri ma voleva prendere il buono da ogni corrente dello Yoga e in più aggiungere la sua personale elaborazione in modo da rendere fruibili i principi dello Yoga anche al mondo occidentale sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista spirituale sia appunto dal punto di vista della possibilità di applicare questi principi nella vita di tutti i giorni. Il suo naturale successore è il maestro Yuji Airo che noi abbiamo invitato in questo incontro che è anche il fondatore della Libera Università Okido Mikio Yoga, il luogo, l'ambiente di studio e di ricerca e di approfondimento dei principi Okido. Quindi questo seminario è la possibilità di attingere direttamente dalla fonte di questo studio e della sua ricchissima esperienza e quindi un'occasione per tutti di crescita personale. L'evento verrà proposto il 7 dicembre dalle 19.30 alle 22.30 e riteniamo che sia una cosa molto interessante per le persone che vogliono arrivare a toccare questa dimensione nella loro vita e ci sarà anche la possibilità di avere un confronto diretto con il maestro attraverso domande e risposte che riguardano un ambito di salute o un ambito più stretto al discorso familiare o sociale. Per qualsiasi tipo di informazione a livello pratico potete telefonare a me al 335-744-0838 oppure a me al 340-7514-511. Vi aspettiamo a cuore aperto per condividere insieme questa esperienza. Buona vita!